E passiamo adesso alla nostra Alcamo, aumenti tari, argomento che ha davvero infuocato l'ultimo consiglio comunale, la verità rispetto a queste cifre esose, sbandierato un po' nei vari luoghi di ritrovo e non, ne abbiamo parlato con l'assessore Donato che precisa anche l'importo oggetto di rincaro, circa 19 euro, c'è per voi l'intervista. È stata una richiesta straordinaria di modifica del PEF, del piano economico finanziario dell'Atari, del comune di Alcamo, legata fondamentalmente ai costi di conferimento sulle piattaforme, l'RSU, che sono aumentati. Il motivo per cui è stata chiesta la modifica straordinaria a SRR Trapani Nord è proprio questo. Nell'ultimo mese noi abbiamo avuto un aumento dei costi di conferimento alla Trapani Servizi, che è la nostra piattaforma a cui conferiamo i nostri rifiuti RSU, che è passata da 280 euro a tonnellata a 360 euro a tonnellata, IVA compresa. Questa cosa chiaramente metteva a rischio l'equilibrio di bilancio per cercare di mettere a sicuro chiaramente i conti del comune. È un tema che riguarda tutti i comuni, non abbiamo più discariche disponibili. Tutto questo nasce dal fatto che l'OICOS, che era la discarica di Motta Sant'Anastasia, in cui si andavano a riversare tutta la lavorazione dell'RSU, il sottovaglio e il sopravvaglio, di fatto non è chiusa. Si va cercando sui territori quelle pochissime ancora discariche disponibili a poter trattare questo rifiuto, che ormai sono chiaramente arrivate al lumicino. Il tema veramente importante è che la Regione deve prendere subito una posizione delle scelte da fare su questo argomento, e ancora prima è dare un contributo ai comuni, perché non possono essere lasciati i comuni da soli. Cioè noi in questo momento ci dobbiamo sobbarcare di costi che non sono legati chiaramente a modifiche organizzative del servizio, ma soltanto costi aggiuntivi per effetto di modifiche legate ai costi di conferimento. Qualcuno dice che avete messo le mani in tasca dei cittadini, ma da quello che io indirisco dalle sue parole, se non facevamo così la munizia potrebbe arriciare lì. Qua nessuno vuole mettere le mani in tasca ai cittadini, non c'è nessuna volontà di voler aumentare la Tari ad Alcamo, ma questo vale per noi, ma vale per tutti i comuni. Noi ci abbiamo pensato prima per salvaguardare gli equilibri. Il tema è che ormai il sistema Rera, quello a cui tutti i piani economici e finanziari sono sottoposti, prevede il full recovery cost. È un concetto che sta a significare che tutti i costi di servizio della Tari in questo caso, quindi raccolta ai rifiuti, ma prossimamente vale anche per l'idico, dovranno essere autofinanziati dalle tasse che i cittadini dovranno eventualmente pagare per coprire complessivamente questo costo. Si è obbligati a fare questo. Il nostro malgato, a me non piaceva, non piaceva nessuno nella Giunta, che in verità, per le cifre che ho sentito, sono tutte sciocchezze. Mediamente, annualmente, per una famiglia aumenterà non più di 19 euro il costo della Tari del 2023, perché noi abbiamo documentato tutto quello che abbiamo cercato di realizzare.